ciao oh chi c'è qui? entra grazie wow catnap ciao allora qual è il problema? tossisco tanto dovrò controllare la tua gola perfetto avvicinati forse non dovrei oh no! lo sto facendo di nuovo aspetta ma perché? lascia stare la mia paziente iniziamo dalla radiografia sembra sicura giusto? ma si non preoccuparti faremo tutto in fretta visto? te l'avevo detto ecco qua sei in perfetta salute e ora puoi andare espira grazie dottoressa sono così felice ma hai bisogno di un esame completo sei pronta? batti il 5 ora ho degli artigli sei di nuovo tu? posso accorciarli lascia che ti aiuti fidati di me sono una professionista ti prego no va bene ho un'altra opzione che sta facendo? solo una spuntatina dammi la tua zampa grazie lo faremo noi cosa? guastafeste siaditi piccola andrà tutto bene la sterilità è importante che stai facendo? voglio limare le tue unghie non sarà affatto doloroso e avrai una manicure perfetta spero che ti piaccia tutto fatto che ne pensi? wow che belle che altro ci serve? andiamo e io ah cattive ehi dottoressa sei occupata o che altro? cosa? un mostro? oh dove ha? che incubo la mia gamba dottoressa aiuto ok entra grazie finalmente finalmente mi divertirà un po' ah ah sono pronto sono pronta anch'io? no dobbiamo essere seri dottoressa ma che è quello? il miglior trattamento possibile ah ah non aver paura è solo una punturina no basta non preoccuparti farò in fretta oh 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 bene ok presto ti sentirai meglio ora è il momento di fare un giro eccoci qua trum trick oh dove sono? dovrebbe dormire devo andare? che schifo che è questo odore è terribile ho un'idea controlliamo le orecchie mi serve uno strumento eccolo che bella piuma attenzione è uno strumento molto delicato ah 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 che solletico non preoccuparti te le ridarò presto perfetto e ora possiamo iniziare l'esame i guanti ci sono anche le pinze eccomi oops sembra che qualcuno non si sia pulito le orecchie dobbiamo risolvere il problema per fortuna che sei venuta da me quanta spazzatura è strano che tu riesca a sentirmi rimuoviamo tutto quanto perfetto abbiamo finito ottimo ora sentirà benissimo eccomi qui ed ecco le tue orecchie sono pulite oh wow riesco a sentire cento volte meglio hai superato il primo controllo e ora controlliamo la lingua ma che c'è di sbagliato in te non sono affari tuoi ridammelo e ridacci la lista farò io questo esame è chiaro? oh va bene allora ehi tirala fuori forza oh lasciati andare è bloccata ughi vieni qua che succede? la gamba mi fa ancora male questo è un bene e la lingua? ah perché lo stai facendo? beh per farvi vedere come si fa oh oh che puzza non si fa così ora ti faccio vedere tira fuori la lingua ok perfetto e ora esaminiamola beh a quanto pare dobbiamo proprio pulirla e anche qui e un po' qui oh aspetta tesoro ho quasi fatto devo solo riempire i vuoti collega ti serve aiuto non interferire va bene allora piccola anestesia questo è un martello mettilo via tutto fatto la lingua è pulita e perfetta e questo è per la tua pazienza abbiamo fatto un ottimo lavoro buona fortuna perché riceve tanti clienti riconoscenti oh ho un piano fantastico spero che tutto si risolva in fretta bene vediamo pronto si sbrighi ho bisogno di aiuto oh arrivo subito devo sbrigarmi sto arrivando perfetto oh sì e ora nessuno mi impedirà di mangiare le sue caramelle oh ciao vediamo cosa abbiamo qui ne prenderà un bel po' mmm gustose gustose che giornata meravigliosa non c'era nessuno spero sia tutto ehi ma che hai fatto ha 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 guarda la tua faccia non ci credo cosa le hai mangiate tutte queste non sono caramelle ha ha cosa quindi non erano caramelle e adesso che mi succederà oh no che c'è di sbagliato in te fai tornare tutto com'era subito oh oh ha 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 oh ciao dottoressa la prego mi aiuti mi fanno male i denti non preoccuparti ci penso io per favore straiati qui oh oh shh andrà tutto bene ma dove sono i miei attrezzi questo andrà benone aspetta ma che dico non peggiorare le cose per favore ecco qua rimuoviamo il dente dolorante in fretta non c'è un altro modo basta voglio solo aiutarti perché fai così eh non osare toccarlo e allora che facciamo ehi ho un'idea ma certo proviamo il vecchio metodo del cordino basta che non ti muovi ecco fatto e ora rilassati dov'è? trovato non se ne renderà neanche conto fatto abbiamo quasi fatto per favore non sparare andrà tutto bene trum trick oh cosa? annika? chi credi di essere? scusa non volevo Kane stai bene? wow ora capisco perché faceva male possiamo sempre ricucirlo a quanto pare sei goloso di dolci tieni li vuoi? cosa? mi prendi in giro? ok ora faremo una piccola riparazione estetica voilà come nuovo dottoressa lei è bravissima non le darà più fastidio grazie mi ha salvato sono stata brava ehi dottoressa può aiutare il mio bambino? gli fa male una gamba oh ma certo non state nell'impalata entra va bene non credo che finirà bene in fretta passamelo ma dove l'ho messo? oh facciamo una radiografia ok wow è una frattura in fretta al tavolo operatorio andiamo starà bene ma certo non preoccuparti questo ci aiuterà andrà tutto bene ma che stai facendo? un attimo dottoressa aiuto certo tesoro aspetta dammelo non è il caso sta interrompendo di nuovo il mio intervento serve un trattamento diverso ti aiuto io catnap non preoccuparti fammi vedere che è successo oh mio dio che disordine rimuoviamo tutto l'eccesso le caramelle non devono stare qui oh povera gamba ora puliremo credo in lei dottoressa ehi Annika guarda lì dove? non vedo niente è arrivato il mio momento strano deve essere stata la mia immaginazione vediamo come ti la cavi che ci fanno questi qui? beh rimuoviamoli perfetto chissà come ci è arrivato che sia un segreto medico beh tutto fatto operazione completata dobbiamo solo applicare una fasciatura vero caro? spero che ti riprenderà in fretta oh non mi sento bene oh no lo stiamo perdendo in fretta spero che funzioni oh no non funziona ragazzi per favore aiutateci mettete un like a questo video così potremo salvare il mio bambino per favore wow ha funzionato il defibrillatore funziona di nuovo facciamolo drum trick grazie dottoressa meno male che ha 9 vite ero così preoccupata dottoressa lei è la migliore la prossima volta non taglierò il filo ma te in realtà stavo cercando di risparmiare sull'elettricità cattiva è la mia cartella clinica devo riprendermela oh no la mia zampa è una scheggia aiuto i saccaritari sono qui nessuna scheggia sopravviverà basta peggiorerai solo le cose non è chiaro? mi lascerai mai fare qualcosa? sono una dottoressa anch'io oh si comporta come una bambina so cosa fare metti la mano qui hai trovato una spina bella grande eh? non preoccuparti ci penso io ho lo strumento adatto la mia pinza drum trick e la scheggia è sparita bene l'abbiamo tolta e ora dobbiamo curare la ferita e per una rapida guarigione applichiamo un vendaggio ecco fatto non fa più male sono come nuova wow ti piace? giochiamo lanciamela ancora e ora prova a prenderla piccola mi prude la gola non preoccuparti ho un ottimo sciroppo che risolverà tutto quanto wow che schifo non la berrò pommi dice che ha una pessima idea pommi eh? drum trick wow allora esisti davvero sì e devi bere lo sciroppo per curare la tua gola oh va bene solo pochi minuti e il dolore sparirà oh sì ho capito sto arrivando ok cara devo andare mi raccomando anche tu sai trasformarti in pommi problemi con le luci ed eccomi qui oh non aver paura guarda qua la mia mazza sta cadendo a pezzi vediamo cosa posso fare solo un minuto ed ecco qua le matite dobbiamo solo affilarle perfetto e ora sostituiamole con quelle perse wow e sulle parti rotte metteremo dei cerotti non preoccuparti ci penso io molto meglio fatto oh ma dove oh prendi questa meravigliosa la mia piccola è così bella Miss Delight e il pagamento certo tesoro prendi questa bene vediamo chi altro ha bisogno di me daddy non riesco a sorridere ma che ti è successo io e mammi ci siamo lasciati non ti preoccupare cercherò di aiutarti vediamo cosa abbiamo qui vediamo e questo sorriso no non è quello giusto beh forse questa ti farà ridere dai sorridi così non ce la faccio no non mi riesce lascia che ti mostri un trucco oh oh che ne dici di questo non è divertente davvero divertente grazie dottoressa un attimo mammi mi ha lasciato e allora la lascerò anch'io dottoressa per caso è qui non mi vedi solo un secondo puoi aprire gli occhi tutto chiaro credo di avere un trattamento per te dove sei ed eccoli qui questi sistemeranno tutto occhiali proprio quello che serviva beh adesso che mi dici wow perfetto e ora guarda la tua mano prova a raggiungere il tavolo ha funzionato hai bagnato già pensavo che gli occhiali avrebbero aiutato le lenti sono sbagliate aspetta forse si sono solo sporcati questo è facile da sistemare ora li pulisco e torneranno limpidissimi che ne pensi? wow ci vedo di nuovo allora sei davvero una dottoressa grazie e a daddy manchi tanto gli dispiace per la vostra rottura oh daddy vieni da me oh cara mi sei mancata così tanto finalmente siamo di nuovo insieme grazie dottoressa a presto wow due in un colpo solo addio picciancini sono così carini vediamo quanti adesivi mi mancano e questa è mommy chi sarà il prossimo? vediamo questa sagoma mi sembra familiare chi potrebbe mai essere dog day esattamente è lui vieni pure c'è qualcosa che non va il mio dente fa male sembra una cosa seria vediamo un po' è tutto pronto fammi vedere i tuoi denti solo un momento eccoli qui ah ah risolverò questo problema in un attimo drum trick per prima cosa rimuoviamo tutto ciò che è incastrato wow quanti buchi dobbiamo cambiare queste otturazioni c'è così tanta roba qui eliminiamo l'eccesso e ora riempiamoli semplicemente fantastico e adesso il prossimo dente guardate che pirichino e passiamo alla pulizia la pasta di carbone è ottima per sbiancare come nuovi ora incogliamolo e fissiamolo meglio e ora non faranno più male dog day aspetta arrivo un miracolo posso abbracciarti oh certo bravo cagnolino ho una chiamata pronto devo sbrigarmi mi fa tanto male spero di non essere in ritardo oh che succede? ti sei fatto male? è tutta colpa di quella stupida corda per saltare non preoccuparti fammi dare un'occhiata al ginocchio andrà tutto bene grazie che abbiamo qui? sembra una lusazione drum trick la rimetto a posto ma prima scopriamo che cosa c'è che non va ah ah è tutto chiaro un legamento è strappato mmm doc sarò in grado di saltare di nuovo? mmm esattamente la corda per saltare ci tornerà utile perfetto e ora possiamo sostituirlo attacchiamo l'elastico alla giunzione wow ha funzionato la gamba si piega di nuovo è fantastico come promesso ti restituisco la gamba aspetta solo un po' drum trick dottoressa sei la migliore posso saltare ancora più in alto di prima drum trick oh wow può davvero farlo ops spero che a te risano il salvo buona fortuna mi hai chiamato? si ho la bocca piena di spine mi fanno malissimo non aver paura ci penso io posso? no ok d'accordo allora guarda la palla palla perfetto funziona meglio di qualsiasi anestesia e questo era l'ultimo ti è di duro tesoro buh buh è tutto finito ora ricuciamo le ferite ecco qua la tua lingua guarirà completamente dottoressa lei è la migliore oh cavolo per così poco ora vado ok? questo è per te oh un altro adesivo che succede? nascondiamoci ma che succede qui? problemi con le luci ed eccomi qui oh non aver paura guarda qua la mia mazza sta cadendo a pezzi vediamo cosa posso fare solo un minuto ed ecco qua le matite dobbiamo solo affilarle perfetto e ora sostituiamole con quelle perse wow e sulle parti rotte metteremo dei cerotti non preoccuparti ci penso io molto meglio fatto oh ma dove? oh prendi questa meravigliosa la mia piccola è così bella miss the light e il pagamento certo tesoro prendi questa oh sì due adesivi sono così fortunata me ne serve solo qualcun altro sì oh freddy dottoressa queste api non mi lasciano in pace che incubo sei ricoperto di api le rimuovo io ecco qua meglio qui applicheremo dei cerotti e tornerai come nuovo grazie dottoressa mi hai salvato finalmente queste stupide api se ne sono andate oh grazie a te è ora di mangiare aspetta ecco perché le api ti pungono è ora di mangiare no sei a dieta ora questo no non mi sento molto bene devo sedermi ho bisogno di aiuto pronto sono stata punta oh sì erano api per favore consegna di trum trick come farai a pagare wow che ti dici di uno sconto ok grazie buona giornata oh oh sorellina che succede guarda quante api vuoi aiutarmi ma certo poverina ci penso io non preoccuparti mi occuperò di tutto la dottoressa pommi è pronta a visitare i suoi pazienti e tu devi riposare vediamo questo ti aiuterà ottimo bevi queste vitamine ti aiuteranno grazie fatto oh se è qui per vedermi entra pure dottoressa mi sono rotta un occhio aiuto ehi pommi abbiamo bisogno di un po' di argilla prendi la sorellina oh ah grazie lo aggiusterò io ecco qua ah ah pronto vuoi provarlo prego grazie dottoressa uh uh posso vedere di nuovo è fantastico sei la migliore figurati uh cos'è puoi venire un attimo ottimo lavoro a proposito puoi attaccare questo adesivo ma certo lo metto qui fantastico wow vediamo ehi è chiuso a chiave ma dai quindi pommi non aiuta tutti oh questo no una chiamata dottoressa pommi oh certo è jacks è proprio qui vado ciao c'è qualcuno avete chiamato un medico hai bisogno di aiuto aiuto i miei denti terribile non preoccuparti ho con me un kit di emergenza contiene tutti gli strumenti utili wow ci puoi scommettere e ora iniziamo no ti prego non parlo ops ho fatto confusione cominciamo dal cotone oh posso dare un'occhiata forte mi piacciono sono molto contenta ehi solo un secondo finalmente posso masticare di nuovo i miei dolci preferiti non è possibile non lo sai che fanno male ai denti ecco qua meglio masticare una mela ma non è cioccolato beh ok a proposito questa è per te un'altra grazie sei fantastica ancora un po' e me ne andrò da qui trum trick sì sei sei qui per me ma mi sta facendo impazzire è tutto il giorno che mi prude può aiutarmi dottoressa vediamo che posso fare siediti con attenzione e ora esaminiamo la situazione pettiniamoci eccellente abbiamo un campione ora dobbiamo studiarlo vediamo cosa abbiamo qui oh no sono pulci è terribile abbiamo bisogno di misure urgenti continua a prudere durerà poco te lo giuro il barattolo è vuoto questo è un problema ragazzi vi prego mettete dei like a questo video così potrò curare il cat nappa ha davvero bisogno del vostro aiuto ragazzi vi supplico queste pulci mi fanno impazzire guardate funziona mettete un like così lo cureremo subito grazie mille ora si sentirà meglio oh allora come va andiamo via da qui beh spero di esserti stata d'aiuto oh grazie dottoressa mi sento molto meglio tutto bene oh la mia zampa alzati ma niente movimenti bruschi ora facciamo una lastra non preoccuparti oh è quello che temevo la gamba è rotta dobbiamo operarla la sterilità è la cosa più importante e ora mettiamoci al lavoro facciamo una bella incisione ah guarda quanti dolci dobbiamo eliminarli da questa dieta come ha fatto a mangiarli così bene l'importante è non danneggiare le arterie e ora bisogna occuparsi dell'osso per fortuna ha una frattura composta questo potrebbe aiutare puliamo e ora iniziamo a cucire fai più attenzione la prossima volta dottoressa sei bravissima è il mio lavoro e ora siediti andiamo buona fortuna sei qui per me dottoressa è qui sì da questa parte ho un problemino ciao sono qui non mi vede? per favore siediti allora come posso aiutarti? ho capito dammi solo un minuto risolverò il tuo problema forza dovrebbe funzionare diamo un'occhiata non sapevo avessi così tanti gemelli credo di aver esagerato dobbiamo rimuovere l'eccesso spero solo funzioni non vedo più niente e adesso che dovrei fare? un momento trum trick questi dovrebbero andare bene voilà prendi posso vedere di nuovo? che giornata meravigliosa abbi cura di te dottoressa ho bisogno del suo aiuto ucciu che freddo vi lascio in pace non prendere il raffreddore dottoressa non preoccuparti mi prenderò cura di te vieni sul divano ok dottoressa siediti ora ti esaminerò wow c'è un intero iceberg qui ci sarà un modo per sbarazzarsene è difficile trum trick tieni duro abbiamo bisogno di qualcosa di più serio trum trick grande pronta oh stiamo facendo progressi dottoressa come vede sono ancora qui come faccio? fammi pensare non farti prendere dal panico abbiamo bisogno di questi sì il cocktail è molto più gustoso così ci sono sciogliamo questi ghiacciai preparati farà un po' caldo credo in lei allora funziona wow incredibile ce l'ha fatta questo è per lei dottoressa posso prenderla? certo buona giornata anche a te ancora un po' e me ne andrò da qui ciao ciao fatto le vitamine torneranno utili dottoressa ciao mi hai portato un osso che carino come posso aiutarti? la mia coda è sparita tutto qui penso di potercela fare tutto quello che ci serve è qui sei pronto? sì! eccellente questo siero ti darà la coda trum tric che ne dici? questa non è la mia coda oh no ok beh questa è di caton up ops non avevo controllato ed ecco la tua questa volta funzionerà di sicuro trum trum tric la mia coda è tornata a posto grazie dottoressa ora mi rimetto in pari sembra che vi stiate divertendo e non dimenticare l'osso te lo porto subito che carino pronto? cosa? una chiamata d'emergenza? sì sono qui ciao Cap mu hai chiamato? che c'è che non va? qualcuno ha fatto uno scherzo e ora sembra una discarica aiutami non ce la faccio più è terribile questo mi aiuterà spazzami via oh aspetta un attimo ah che odore che schifo non ho firmato per questo devo aiutarlo sarà più facile così una scopa non servirà serve qualcosa di più forte e ora mettiamoci al lavoro sbarazziamoci della spazzatura wow rimprescante cosa? da dove viene questo piccione? è terribile beh continuiamo guarda sei quasi pulito ancora un pochino wow come nuovo grazie dottoressa sempre felice di aiutare allora cos'è questo? ah ah sembra che qualcuno sia andato in luna di miele ridammelo la chiave ma dov'è? oh vabbè comunque grazie che schifo ciao un altro passo verso la libertà fantastico oh ne è rimasta solo una chissà di chi è oh potrebbe essere chiunque oh ciao ciao dottoressa wow sei così bella oggi così mi fai arrossire siediti che ti preoccupa è incredibile hai sentito? siediti per favore non ho mai visto una donna così bella in vita mia sicuramente è sordo vedo delle bende sulle tue orecchie questo funzionerà siediti oh sì certo fantastico e ora ti esaminerò oh strano c'è qualcosa di incastrato wow come hai fatto ad entrare lì? sei un mago? wow stai bene? quasi oh questi sono per te bombe da quando ti ho vista non riesco a pensare ad altro oh è così carina cara vuoi essere mia moglie? lo voglio allora accetta questo anello come segno della mia fedeltà congratulazioni wow ti amo oh sono felice per loro qualcuno ci sta guardando ehi unisciti a noi oh dietro di te oh e adesso che facciamo? un attimo vi aiutiamo noi resistete non mi piace è meglio loro che cammo oh ottimo lavoro evviva oh no quello no hai dimenticato qualcuno? wow siamo nei guai ti proteggeremo credo sia arrivato il momento dammi i bambini ti piacerebbe? sì fagliela vedere trum trick oh oh abbiamo vinto sei così figo grazie vogliamo diventare come te è un'ottima idea perché no ho una lista per i bambini esattamente e questo è per te amico mio forte trum trick ora possiamo iniziare il restyling tesoro sono sicura che tutto si sistemerà cominciamo dal trucco sono d'accordo allora andiamo guarda ho già preparato qualcosa ti piace il mio cofanetto di bellezza? è fantastico fantastico e non è tutto ecco questo possiamo usarlo e questo sarà sufficiente per iniziare non perdiamo tempo presto non ti riconoscerai più i veri artisti del circo lo sanno che il trucco è importante per essere belli ahah semplicemente fantastica grazie pommi e il pardo sono proprio come te e non è finita che c'è dietro questo orecchio? è un rossetto completiamo il look fantastico mi piace è fantastico ragazzi ciao ora dobbiamo andare noi non abbiamo bisogno di trucco vero? ma certo tutti gli artisti del circo ne hanno bisogno oh posso sempre fare uno spuntino oh no il trucco è più importante andrà bene sei sicuro di quello che fai? oh sì questo sarà un vero capolavoro ehi beh ora basta così oh wow forte e tu che ne dubitavi? il primo fatto ok dove possiamo trovare il maglione? pensa ho un'idea aspettami qui spero che torni presto spero di non essere in ritardo caro pubblico ecco il nostro grande spettacolo di star Pammy applausi per Jax mi sono mancato? andrà tutto bene ho uno spettacolo pronto chissà riparlo wow che figata grazie per aver guardato signore e signori sei davvero forte ora tocca a me è ora di mostrare i miei trucchetti ma dov'è? sosteniamo Pammy l'ho trovata oh è un miracolo wow e non è finita mi aiuterai? certo eccoci qui oh 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 vi è piaciuto il mio spettacolo? Jax sono un po' preoccupata ho tutto sotto controllo cara ti ricordi cosa fare? ehi puoi darmi una mano? ma certo Troom Troom Trick è scomparsa non è un miracolo? ops no 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 non puoi andartene tesoro sbrigati ok non pensavo fosse così difficile ehi piccola ciao che succede? perché sei un'asta da bandiera? oh non preoccuparti ho una cosa per te guarda qua Troom Trick vuoi una caramella? sono tutte per te wow grazie figurati mangia anche tu hai bisogno di un cappello non ci avevo pensato queste bandiere mi torneranno utili ottimo Troom Troom Trick molto brillanti davvero carine mi aiuti piccola? ora ti faremo un bel cappello ritagliamo la forma delle corna dagli spazi vuoti e ora ci serve un cerchietto pieghiamolo un po' di più io sono molto forte e aggiungiamo un bel cerchietto ripassiamo il contorno con la pistola per la colla sì ora possiamo collegare tutte le parti così perfetto e ora possiamo decorare incolliamo una fascia dorata lungo il cerchietto semplicemente bellissimo vuoi provarlo? è pronto wow sei forte provalo fantastico sì ma potrebbe essere più carino Troom Troom Trick wow ora sono proprio come te sono felice che ti piaccia un'altra cosa pazza e siamo a posto batti il 5 Jax non ha molta fretta fa così freddo qui Jax ehi piccolo perché tremi? ora lo sistemiamo questo colore ti starà benissimo grazie ora fa più caldo oh non ho ancora trovato un maglione per te è ora di farlo lo cuciremo benissimo non aver paura vieni da me cosa? cosa? cos'è questo? pensavo avessi detto maglione vieni ho fatto quello che ho potuto oh guarda forse possiamo giocare l'importante è colpire quella palla verde ottima idea proviamo concentrati avrai successo sì sono pronto allora eccoti qua andiamo solo per il premio che emozione potrò farcela di sicuro non colpiamo l'arancione forza campione smettila stai rovinando tutto scusa ecco fatto ora ce la farò ce l'ho fatta wow ottimo lavoro ce l'hai fatta evviva sì il tuo premio una macchina da cucine ecco cosa mancava ora basta ho capito fantastico andiamo ora possiamo facilmente fare un maglione come il mio sì così è molto più comodo infiliamo l'ago e sì pronto provalo piccolo ti sta molto bene grazie ti sta benissimo ed è anche caldo batti il 5 un altro punto è completato sembra che sia qui dai non essere timida magari vuoi provare la nuova attrazione se stabilisci un record riceverai un premio sarebbe perfetto per la bambina devo comprarlo auguratemi buona fortuna ragazzi sono d'accordo posso provare tu prego wow è pesante vorrei poter rimanere in piedi allora sì questo non è certo un record sei così divertente anche un bambino colpirebbe più forte smettila un attimo questa è la mia occasione più like e più potere ragazzi ho davvero bisogno del vostro aiuto mettete mi piace a questo video così potrò vincere il costume vi prego wow mi sento così forte ora di sicuro ce la farò siete davvero incredibili e trum trum trick oh è stato facile ho vinto wow che svolta e il costume è tuo grazie ciao ehi ridami quella gruccia l'ho portata da casa che carino ciao tesoro ho una sorpresa per te ti starà benissimo è bellissimo è vero presto seguimi voglio farti vedere una cosa dammi il telefono ora guarda ma che stai facendo ora vedrai sei pronta? trum trick ho preparato un case per te wow sei davvero un genio brava proprio come te uh campionato di bowling in finale vediamo Michael Jax la folla trattiene il fiato e lanciamo piccolo lascia che ti aiuti funzionerà non deludermi ora lo colpirà sicuramente strike wow è stato epico sì ho vinto il campionato hai visto? che colpo stai bene? Michael ci siamo dimenticati delle orecchie dobbiamo sistemarle subito un attimo penso di poterle fare con quello che ho iniziamo ritagliamo prima la forma delle orecchie lunghe pronte? grazie forbici le orecchie sono pronte ora dobbiamo collegarle incogliamole lungo il bordo aggiungiamo del tessuto ora possiamo tagliarle fatto lo facciamo di nuovo? allora penso che vada bene trum trum trick ora questo è ciò che serve non resta che attaccarle al cerchietto wow sono bellissime Michael le adorerà tesoro vieni qui eccomi wow che belle grazie possiamo continuare? sì andiamo allora che ne pensi? molto buono oh non volevo non fa niente però devi cambiare i pantaloncini e il gelato non preoccuparti non è niente troveremo una soluzione che ne dici di una gonna? fantastico aggiungiamo un po' di magia trum trick ah non è quello che volevo ferma dobbiamo riprovare eccolo qui allora puoi provarla? è perfetta sì grazie Pommy è anche meglio del gelato che balletto andiamo tesoro dove sarà Jax? bene 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 anche io ho fame voglio fare uno spuntino tesoro come stai? ho tanta fame certo cercherò qualcosa ecco serviti pure fantastico grazie quella tuta ti sta bene Michael potrebbe averne bisogno ed è anche sulla lista è ora di trovare una tuta anche per te bisogna dare un'occhiata al camerino ok lo farò da solo non sono più un bambino preparati alla magia trum trick allora ha funzionato posso dare un'occhiata uuuuuh ma chi hai fatto? che razza di rodeo giurassico è questo? questa non è una tuta riproviamo più in fretta non preoccuparti trum trick posso entrare? ha funzionato? la tuta è stupenda e anche io grazie mille davvero oh e tu che eri preoccupato? guarda arriva la sorellina ciao ragazzi oh wow fammi vedere sei venuto benissimo sì è vero sì ora siamo i più bighi sì è ora dello spettacolo forza facciamo del nostro meglio con piacere andiamo ciao buona fortuna oh chi sarà? pronto sei qui Elsa ciao Pommy ho un regalo per te vuoi vederlo? e me lo chiedi ma certo grazie prendilo che c'è qui dentro? Kane? non vi aspettavate di vedermi ho una sorpresa anche per te oh no che c'è che non va in noi? benvenute nella vostra nuova casa andiamo con piacere ciao ciao guarda c'è un'uscita forse possiamo scappare oh no è chiusa cos'è quello? guarda la porta si aprirà se costruiamo le nostre case ma come facciamo? è Kane questo è per voi per non farvi annoiare wow eccole lì e c'è qualcos'altro delle to do list oh ora ha senso buona fortuna sono sicura che possiamo farcela sì questi devono essere i materiali forte i colori ritaglio le parti e io le dipingo non ce ne staremo con le mani in mano andiamo da dove iniziamo? dai muri fantastico dipingiamoli con una bomboletta spray sarà facile la nostra casa sarà la più luminosa non è adorabile e ecco a voi tadan oh niente male anch'io ho un'idea trum trick gelido vediamo un po' e ora aspetta oh la poma che succede? non rovinare la bacchetta prendi questo oh hai ragione così farò più in fretta va bene iniziamo prendiamo la vernice e a tutta velocità che colore delicato mi piace ottimo lavoro Elsa e il colore è bellissimo dobbiamo pensare a cosa fare dopo che ne dici del tetto? lo farò sembrare un circo quale tessuto posso scegliere? e se li scegliessi entrambi? esattamente ed ecco la macchina da cucire cuciamo insieme le toppe fatto wow fantastico è proprio il tendone di un circo non proprio serve anche qualche bandiera quante ce ne sono lascia che ti aiuti visto? sarà molto più semplice così grazie mille ora appendiamo tutto e fissiamolo con una spillatrice incredibile e ora le bandierine qui oh mi piacciono Elsa guarda cosa ha trovato credo che ti tornerà utile fantastico possiamo ritagliare le parti che ci servono dalla schiuma ottimo trum trum trick sembra proprio del ghiaccio e ora un altro paio sì proprio quello che serviva e adesso decoriamo il tetto ecco spargiamolo di neve wow è venuto meglio di quanto pensassi fantastico guarda ha fatto un angelo proprio come un bambino e ora giochiamo a palle di neve il tetto è pronto non mi piace questa porta ma la aggiusterò voilà disegniamo i contorni esatto e ora rimuoviamo tutto ciò che non serve allora cosa abbiamo? semplicemente perfetto ed ecco il mio rullo speciale dipingiamo la nostra cornice fatto in che altro modo possiamo decorare la porta? penso che questo andrà bene ottimo che bello me l'ero completamente dimenticata ehi cappello ora sarà molto più semplice e adesso forza ti trasformerà in polvere nessuno sfuggirà alla mia mazza uh sei un asso duro eh wow che cos'è una bella ghirlanda oh c'è anche il cashback alla bambina piacerà ciao mamma questo è per te non è bellissimo? oh sì grazie mamma indossiamolo oh wow è d'oro che bello grazie mamma non ti distrarrò andiamo alla casetta fantastico e ora avremo anche delle belle tende sistemiamole ce l'ho fatta un altro passo fatto ottimo wow è fantastico lo adoro è bellissimo oh ne ho conservato un po' anche per te oh wow grazie buona fortuna iniziamo segnando i contorni fatto e ora passiamo al taglio il ghiacciolo mi aiuterà oh non è facile come pensavo Olaf cos'è quello? grazie ora però ci penso io wow è decisamente meglio del ghiaccio sono certo che te la caverai per favore non interferire fantastico wow proprio come nel palazzo di ghiaccio e ora proviamolo oh non cadermi addosso stai bene? forse hai bisogno di colla prendi questa grazie pommi che farei senza di te oh non c'è più colla oh lo so congeliamolo cosa? la mia magia è sparita lo sapevo ragazzi per favore aiutatemi mettete un like a questo video così i miei poteri torneranno Elsa davvero ho bisogno del vostro aiuto bastano un paio di like e tutto si risolverà oh sì lo sento posso creare un'era glaciale ora non cadrà più di sicuro grazie pommi a proposito non è che ti è rimasta qualche tenda? mi dispiace Elsa ma possiamo farne di nuove penso che questa potrà andare bene ecco qua grande sta indietro aspetta e ora trasformiamola in un bel sipario e fatto wow pommi tu sei un genio ora le nostre porte gelate sono pronte mi sono perso qualcosa il re sta lasciandole di piccio guarda cosa ho trovato forte prendilo wow giochiamo guardami wow sa cosa fare guarda perfetto aspetta ho un'idea esattamente possiamo ricavarne un'ottima cornice spero che funzioni avremo bisogno di una pistola per la colla e allora ha funzionato trum trum trick decoriamo la cornice uh niente male e adesso prendiamo le lenti oh oh ora trum trick ecco fatto l'acchio della finestra è pronto forte no? possiamo spuntare un'altra voce Elsa chiudi la finestra fa freddo si hai ragione anche noi abbiamo bisogno della finestra uh perfetto oh fa freddo oh ho un'idea possiamo anche decorarla con la neve sarà bellissima un po' qui e un po' qui non c'è un limite alla perfezione disegniamo dei motivi di ghiaccio sul vetro spero che funzioni è così bello oh ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo qual è il prossimo passo oh forte oh cos'è questo? una palla è vostra ragazze oh che divertimento ehi smettila ah queste ragazze un attimo ho un'idea ehi ragazze lanciatela qui hai sentito la mamma faccia prendi sì di più ok prendi uh proprio così facile vai pommi puoi farcela allora ti piace la nostra casetta? ora sembra una parete da arrampicata trum trick ora andrà ancora meglio il muro è pronto ottimo lavoro devo recuperare pieghiamo la carta più volte e tagliamola e ora abbiamo dei meravigliosi fiocchi di neve tracciamo con attenzione uno stencil niente male ehi pommi puoi aiutarmi? certo ragazza fatti da parte non avevo dubbi ti colpirò sicuramente vai pommi ah 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 caia ha funzionato è stato bellissimo e tu hai fatto uno splendido lavoro wow anche tu sei forte altro? con piacere potrei farlo tutto il giorno sono così tanti trum trick piocchi di neve ninja wow un lavoro eccellente grazie non ce l'avrei mai fatta senza di te spuntiamo il muro wow e ora la banderuola oh non riesco a raggiungerlo sono così vicino oh devo aiutare pommi trum trum trick che è stato? grazie Elsa nessun problema quando ti serve sono qui